Massimo Canale, il candidato a sindaco per la città di Reggio Calabria, un momento forse come da tanto tempo non si viveva a Reggio. Per far vivere questo momento è bastato poco, anzi tanto, richiamare un ricordo importante per la città, che non è solo un ricordo ma è vivo sempre e comunque, Italo Falcomatà. Questo a una settimana dalle elezioni, cosa danno a Massimo Canale e soprattutto agli elettori di centrosinistra? Intanto il centrosinistra, Reggino, ha un entusiasmo, ha la prospettiva di vincere le elezioni e di essere l'unica vera alternativa al centrodestra che ha piegato e offeso la città di Reggio Calabria per così tanti anni. Oggi si respira un clima nuovo, diverso, intorno a un candidato giovane che ha delle idee innovative, che ha costruito un programma attraversando in lungo e in largo la sua città. Questo mi pare il messaggio più bello e positivo che si può dare ai reggini di centrosinistra prima di tutto ma anche a quelli che non sono propriamente dei cittadini con una tessera in tasca a fare la scelta più giusta, la scelta utile, quella che può far cambiare le cose. Chi vuole cambiare le cose non può che votare Massimo Canale e per il cambiamento votare il centrosinistra. Per pochi minuti Massimo Canale è stato il sindaco, almeno all'interno di questa struttura. Sarebbe bello poterlo essere anche dopo il 15 e il 16 di maggio? Indubbiamente dopo il 15 e il 16 ho la fine di maggio il caso di turno di ballottaggio che è l'ipotesi più verosimile che tutti i sondaggi confermano fino ad oggi. Quindi l'idea è che poi questa grande area di politica del centrosinistra possa aprirsi alla città di Reggio Calabria e Massimo Canale smetterà di essere il candidato sindaco del centrosinistra ma sarà il sindaco dell'intera città. Questo è il messaggio più bello che mi pare si possa dare ai reggini oggi. Un'ultima domanda. Cosa la preoccupa di più in questo momento e cosa la entusiasma di più? Mi entusiasma la gente, i miei concittadini, dei borghi abbandonati delle nostre periferie così come del centro storico che hanno una speranza e una nuova fiducia nella scelta che stanno per compiere. Mi preoccupa di più dover riprendere insieme ai tanti volenterosi che accompagneranno questo percorso una città che presenta enormi difficoltà sul piano finanziario ma soprattutto in cui manca la consapevolezza di essere collettività, comunità. Non esiste più perché è stato smontato, strappato questo concetto al Reggino la consapevolezza di essere parte di un tutto e quindi bisognerà fare una grande operazione di ricostruzione delle finanze comunali ma anche del patto sociale che deve esistere tra il cittadino e le istituzioni. Questa sarà l'impresa più dura nella quale saremo impegnati nei prossimi anni. Ecco un'ultima cosa, in un passaggio Walter Veltroni richiamava alla compattezza il centro-sinistra, sicuramente non al PD ma al centro-sinistra che ormai è palese, sappiamo si è presentato un po' tra virgolette spezzettato. Questo richiamo alla compattezza secondo lei sarà recepito? Qui siamo davanti a un bivio, i reggini sono davanti a un bivio, il centro-sinistra diffuso è davanti a un bivio. Cambiare la città o consegnarla nuovamente al centro-destra? Credo che è la scelta più responsabile da fare per tutti i cittadini ma in particolare per quelli di centro-sinistra che dicono a parole di volere un'alternativa, non può che essere quello di darci la forza necessaria per portare al secondo turno il candidato del centro-destra e poi vincere le elezioni. Questo è un richiamo a un voto assolutamente utile che deve essere dato nella nostra direzione. È l'unica vera alternativa, l'unica proposta politica oggi in grado di vincere le elezioni. 17 maggio, Arena e Canale al ballottaggio, la sinistra si compatterà? La sinistra si compatterà quasi certamente, anzi certamente perché è un patrimonio comune quello di immaginare una città diversa. Ma Massimo Canale parlerà ai reggini, anche a quelli che non sono propriamente di centro-sinistra. Reggio ha bisogno di una fase di respiro, di ricostruzione sociale e questo i reggini lo hanno capito perfettamente. Prova ne sia che tutti i sondaggi danno in caduta libera il centro-destra in città e quindi sarà necessario rivolgerci direttamente a loro. Io sono convinto che i miei concittadini comprenderanno. Grazie, in bocca al lupo.